Salve amici e amiche, apro il video di oggi con l'arrivo di Zelensky a Londra, a Downwind Street, presso l'abitazione del primo ministro inglese. Ovviamente sono due protagonisti della storia contemporanea, è una cosa assodata, ma a un certo punto il loro incontro, diciamo, al loro incontro un'altra star ruba improvvisamente la scena, almeno una star indiscussa dell'internet. Ta-da! Ecco chi arriva sul tappeto rosso, davanti a tutti i fotografi internazionali. Eh sì, perché i gatti, lo sappiamo, sono le star di internet. Allora, continuando con Zelensky, ieri circolava una notizia secondo cui si sarebbe comprato un'auto storica che apparteneva a un dittatore tedesco di qualche tempo fa. Ovviamente la notizia è falsa, perché quest'auto si trova attualmente al Museo della Guerra in Canada, non è mai stata venduta. La notizia è stata diffusa dal Cremlino, uno degli innumerevoli tentativi di infangare la vita privata e la reputazione di Zelensky. Citano il Seattle Tribune, che è un giornale che non esiste, almeno il suo sito web è stato aperto giusto qualche giorno fa. Per restare nel tema dell'estrema destra, comunque ieri Orban ha preso l'incarico della presidenza provvisoria del Parlamento europeo e ovviamente la cosa non è stata gradita, soprattutto dagli europarlamentari degli altri paesi, ma questo diciamo è piuttosto ovvio, viste le particolari amicizie di Orban, di cui insomma non serve neanche più di tanto parlare. Se chi se lo ricorda, per esempio, ma ultimamente Trump sta facendo delle belle dichiarazioni in cui definisce Orban un grande leader della Turchia, vabbè, questo ci dice più o meno quanto ne capisce Trump di politica estera. Comunque più volte l'ha definito un grande leader, molto forte, molto rispettato in Europa. Ok. Non penso che sia un leader rispettato, questo non lo dico io, nel senso a giudicare dalle schiaffi, si può dire così, schiaffi metaforici che si è preso ieri, tutti quanti lo hanno accusato di corruzione. In particolare gli interventi più duri li ho visti da parte della Germania, ma per esempio anche la Ursula von der Leyen ha espresso parecchie perplessità circa alcuni elementi terribili da parte della politica di Orban, che è rimasto praticamente l'unico a continuare la narrazione per cui l'Ucraina si è cercata la guerra, che è colpa dell'Ucraina di questa guerra. Giusto, vi faccio sentire l'intervento. I nostri amici ucraini stanno per affrontare il terzo inverno di guerra e la Russia sta cercando di renderlo l'inverno più difficile. Il mese scorso più di 1.300 droni sono stati inviati dalla Russia contro le città ucraine. In tutta l'estate centinaia di missili sono caduti sulle infrastrutture energetiche ucraine. Innumerevoli ucraini sono stati uccisi o feriti, sono state distrutte città, famiglie sono state scisse e il mondo è stato testimone delle atrocità della guerra russa. E comunque c'è ancora qualcuno che dà la colpa di questa guerra non all'invasore, ma a coloro che sono stati invasi, non a chi dà la colpa non alla voglia di potere di Putin, ma alla voglia di libertà del popolo ucraino. Quindi mi domando, verrebbe data anche la colpa agli ungheresi per l'invasione sovietica nel 1956? È giusto, insomma, contrastare il revisionismo storico, ma anche la narrazione che viene fatta in tempo reale, la narrazione distorta delle cose. E questo lo abbiamo visto ampiamente nel mio canale, nel senso, ormai da due anni, e passa quasi tre anni, assistiamo, ma anche di più in realtà, a continui tentativi di distorcere la realtà, la narrazione dei fatti, per cui la nazione invasa diventa il carnefice, per cui, insomma, infiltrazioni da parte della propaganda russa nei governi europei, nei parlamentari, sono così pesanti che arrivano a generare queste forze politiche che fanno del populismo più becero il loro cavallo di battaglia, come se le persone, no, alla fine non si rendono conto che c'è una nazione che ne ha invasa un'altra, di fatto, questa è la realtà, non puoi accusare gli ucraini di questo. Fra l'altro altri interventi di Ursula sono, ma così come quelli di tutti gli altri, ora non posso mostrarveli tutti, vi passo i link in descrizione, ma molti sono stati davvero pesanti, in particolare anche, cito, quelli dell'opposizione del governo ungherese, che sono qualcosa come 256 giorni, che l'oppositore non può parlare, qualcosa del genere. Ma gli interventi di Ursula e della Francia sono stati i più significativi. Le cose che hanno denunciato, in particolare, sono tremende, delle cose che stanno accadendo in Ungheria. L'Ungheria, ripeto, sta facendo dei discorsi di estrema destra al governo, con una politica incentrata su il contrasto all'immigrazione, alla sicurezza, eccetera, eccetera. Quando in realtà i problemi dell'Ungheria non sono l'immigrazione, piuttosto il contrario, l'emigrazione. Qualcosa come 33.000 ungheresi sono scappati dall'Ungheria nello scorso anno, perché nel paese non ci sono le condizioni per un vivere civile sano. La cosa che è stata denunciata da tutti ieri, almeno dai discorsi che è stata fatta, è innanzitutto il fatto che l'Ungheria in questo momento sta accogliendo russi con un visto provvisorio, in poche parole eroga dei visti farlocchi che valgono in Europa, quindi dà il via libera a tutte le possibili infiltrazioni di sabotatori, spie, persone poco raccomandabili che arrivano dalla Russia, il che è veramente un problema, visto che c'è una guerra in corso. L'altro aspetto è che Orban si è letteralmente, ha costituito una forza di polizia di cinesi in Ungheria. Ma ve lo immaginate? Tipo a Roma una forza di polizia privata governativa di cinesi? Ma stiamo scherzando? E questo è solo uno. Poi chiaramente quando devi dar conto al Parlamento europeo si tratta, si parla di soldi, perché è un po' come una riunione condominiale, tutti mettono dei soldi e quei soldi devono essere spesi per il welfare del paese, per le infrastrutture, gli ospedali, le scuole, per generare, diciamo, una vita migliore, delle condizioni migliori per il tuo paese. E a quanto pare c'è un buco generato dall'Ungheria in cui questi soldi sono letteralmente spariti e non puoi fare così, devi dar conto dei soldi italiani, tedeschi, spagnoli, francesi che ti sono stati dati. Non è che puoi fare quello che vuoi, tipo costruirti uno stadio dietro casa o una Disneyland in Ungheria con quei soldi lì. Non funziona così. Ora, insomma, gli interventi sono stati tanti e duri, è stato letteralmente preso a pesci in faccia, per dirla con un eufeminismo. E Orban ha fatto spallucce. Quindi, detto questo, andiamo avanti, parliamo invece della situazione in Ucraina. Allora, in questa mappa vi mostro i depositi di munizioni russi. In rosa sono tutti quelli attivi, in grigio quelli decommissionati, in rosso quelli a portata di circa 500 km dal confine ucraino che potrebbero essere, diciamo, raggiunti se arrivassero i permessi per usare un certo tipo di missili, come Storm Shadow, Tomahawk, ma anche JSO e quant'altro che possa essere utilizzato dall'aviazione ucraina che possa partire da terra. Ora, a proposito di depositi e munizioni, ne è stato colpito un altro giusto ieri presso la cittadina di Yesk. Qui, zoomo indietro così ci rendiamo conto dove si sta parlando. La notizia è importante perché, a quanto pare, fra l'altro, non mi ricordo chi di voi mi aveva commentato ieri, ma vedendo l'immagine dei punti di partenza dei droni russi che colpiscono l'Ucraina, si vedeva proprio quest'area. E un utente mi ha chiesto, ma gli ucraini non possono colpire i punti di partenza di questi droni e dei missili da crociera? La risposta era sì, nel senso, fino a un certo punto, ma i droni possono fare quello che fanno, contengono piccole quantità di esplosivo e non hanno la capacità distruttiva dei missili da crociera necessari per fare questi attacchi. In ogni caso, Yesk è stata colpita ieri ed è stato raggiunto un deposito che, a leggere la notizia, non vi posso mostrare gli incendi, naturalmente, è stato colpito il deposito. E in questo deposito pare ci fossero un centinaio di droni Shahed, i classici droni che vengono lanciati ogni giorno sull'Ucraina. La base di Yesk contiene alcuni su 35, ma suppongo che i depositi di carburante siano questi, poco a est. In queste aree si vedono le classiche strutture rinforzate e interrate, suppongo. Vedremo nelle prossime ore. Altre notizie molto interessanti arrivano dall'aeroporto di Makeup, che per intenderci è questo, si trova in pieno caucaso settentrionale. Tra l'altro quest'area è piena di siti petroliferi, tra l'altro, di estrazione petrolifera. L'aeroporto di Makeup è bello lontano, stiamo parlando di 600-700 km dal confine ucraino, ed è stato raggiunto da dei droni. Ora, dalle immagini di Google Maps vediamo il deposito, che è questo qui. Da quest'area si sono scaturiti incendi che stanno continuando a bruciare in queste ore. L'aeroporto in seda, Google Maps, sembra essere una base con attività molto leggere di scuola di volo, infatti questi sono L39, sono i classici addestratori di scuola russa. Ma, se andiamo a prendere immagini satellitari più fresche, come queste che arrivano dai CubeSat, andiamo a prendere proprio l'aeroporto di Makeup, vediamo che su questo aeroporto e nella zona interessata dagli incendi c'è un'intera flotta di su 27, su 35, come vedete, oltre agli addestratori che vi ho mostrato prima. Tra l'altro vediamo, vicino all'aprom, vicino al raccordo con la pista, ci sono due su 27, o su 30, quello che è. Qui c'è invece una sagoma di un aereo disegnato, potrebbe essere un tentativo di emulare un falso bersaglio, ma voglio dire, ditemi voi, se non si riconosce un aereo vero da uno finto. Cioè, fra l'altro questi altri, vedete qui, la continua abitudine russa di stipare all'aperto le munizioni e il carburante, non è proprio safe. Anche qui, vedete questi due, uno è vero e l'altro è finto. Come diceva la pubblicità della bevanda, sono finti, questo è finto. E voglio dire, me ne rendo conto io, figuriamoci se non se ne rendono conto chi lancia queste missioni. Comunque, gli incendi si sono sviluppati in quest'area, ci sono i video, è una notizia confermata. E questo sono io, o i generali ucraini, quando sentono questi successi. Andiamo avanti. È stato colpito poi a Bakhmut, quindi in pieno territorio occupato dai russi, un centro di comando. Si vede l'edificio saltare in aria, quindi suppongo si è stato colpito da una bomba J-DAM, R, planante, qualcosa del genere. Uno strike di precisione, se non un missile Neptune. Fra l'altro, ecco, aggiungo una notizia al deposito di carburante colpito a Seysk. Questo deposito è stato colpito o raggiunto da un missile Neptune. Lo stesso tipo di missile che affondò la nave da battaglia Moskva, l'incrociatore Moskva. Ora, quindi, andiamo avanti. Stavo dicendo, altra notizia per quanto riguarda i Mirage 2000 francesi, di cui ho parlato l'altro giorno, arrivano altri dettagli. Ora, si parla della consegna prevista per i primi mesi del 2025, quindi manca poco. Da quello che si capisce da queste immagini, da questo sito, che passo in descrizione, verrà data la versione, non proprio la versione base del Mirage 2000, ma la versione 2005, che ha più capacità, sia in termini aria, con un pilone aggiuntivo, quindi due missili in più, migliorie in generale e anche la possibilità di fare attacco al suolo, con più varietà di armamento, quindi un vero e proprio multiruolo, compresi i missili scalp e delle bombe guidate, che hanno guida GPS e inerziale. Quindi è sicuramente un aereo molto valido, che può tranquillamente fare il suo nello scenario ucraino, se parliamo almeno di capacità aria-aria e di attacco al suolo. Fra l'altro, altra notizia, arriva da Jason J. Smart, si parla di qualcosa come i 2300 soldati ucraini che si stanno addestrando in Francia, e questa è un'ottima notizia, voglio dire, conferma la collaborazione fra Francia e Ucraina, ricordiamoci che la Francia, come l'Inghilterra ha una politica sua, personale, di aiuti all'Ucraina, stanno supportando molto l'Ucraina come possono. Quindi questo è un ottimo spunto per dire che, insomma, truppe speciali, altamente specializzate, professionalmente, con degli standard alti, possono fare la differenza in Ucraina, sicuramente c'è bisogno di personale qualificato nelle forze armate ucraine. Cambiamo argomento, quindi siamo quasi in chiusura, come sapete in queste ore l'uragano Milton sta colpendo le coste della Florida, questo è una ricostruzione di foto satellitari, che quindi messe insieme generano un video in cui ci mostrano i fulmini che si sono sviluppati anche nell'aria. Curiosi i cospirazionisti in queste ore che hanno accusato, come dicevo fra l'altro ieri, anche il governo degli Stati Uniti di manipolare il clima. Questa è stata un po' la dichiarazione di Biden. A parte il farfugliamento, non si è capito niente, però fondamentalmente ha detto che stanno circolando voci, per cui il governo controlla il clima. E giustamente ha detto se siete ridicoli. In qualche modo però sì, l'umanità in generale controlla il clima e fra l'altro gli americani, che non è che si fanno tanti scrupoli, non sono tanto ambientalisti come lo siamo in Europa. Questa immagine un po' spiega, sì, mandiamo a quel paese il pianeta, però poi il pianeta ci manda a quel paese più forte. Questo è un po' il concetto di questa meme. Notiziona di ieri, il grande, ex campione peso massimo, Mike Tyson, ieri è sceso in strada e ha deciso di prendere a pugni l'uragano. Come vedete in queste immagini è stata una battaglia epica fra questo sessantenne, non so quanti anni ha di più, penso, e l'uragano. Come vedete c'è un po' una disparità da un punto di vista di forze. Però è interessante vedere la vignetta dei Simpson che cita un articolo del giornale. Un uomo anziano grida alle nuvole. Più o meno questa è la scenetta. Per concludere, da Napoli arrivano queste immagini stupende. Cito l'articolo perché se chi è di Napoli di voi mi spieghi cosa sta succedendo, io non sono riuscito a capirlo e non so cosa sia questa struttura, ma quello che dice l'altra filetto è, non so se prenderlo seriamente. Come al solito l'Italia si dimostra un paese succube della propaganda russa. A Napoli è stata inaugurata una statua gigante raffigurante, Vladimir Putin. L'opera si intitola Il filo russo. Prima che venisse eretta è stata tirata a lucido da Vincenzo Lorusso e Andrea Lucidi. Non so chi siano questi due signori, sapete che non seguo molto l'Italia, ma comunque altri commenti. Basta, non se ne può più di tutte queste immagini di Putin in giro e per l'Italia. Ora, pure una statua a grandezza naturale e per di più illuminata. Fantastici! Quindi, non so, spiegatemi cosa sta succedendo a Napoli perché sinceramente proprio non lo so. E niente, con questo vi saluto cari amici e da qui in poi vi lascio i commenti. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate un mi piace e un abbraccio. Alla prossima!